Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi del gruppo di Sinistra Italiana Verdi, per parlare con lui delle proteste che abbiamo visto a Bruxelles in queste ore. Allora, questa degli agricoltori è sicuramente una protesta molto complessa, dove ci sono anche delle motivazioni nazionali diverse. Se la Francia ha delle critiche da fare alla politica agricola, noi ne abbiamo altre. Tuttavia, ci sono anche delle critiche di tipo nazionale. Allora, quale valutazione deve prevalere secondo lei e che cosa possiamo dire su questa protesta? Innanzitutto la prima valutazione è quella del dialogo. Non può essere né la risposta di polizia, né la detentiva. Perché dico questo? Perché se fossero applicati agli agricoltori i decreti voluti, da Salvini per i giovani che protestano contro la crisi climatica sarebbe di fatto, diciamo, il carcere immediato. Si chiama Bruxelles in questo caso. Ma anche in Italia. E certo. Ci sono blocchi stradali in Italia e quant'altro. Io penso che invece la risposta debba essere una risposta di dialogo sociale, e certamente non quella di polizia né detentiva. Fatta questa premessa, gli agricoltori hanno buone ragioni. Quello però che trovo inaccettabile è la strumentalizzazione della destra, che dà la colpa alla transizione ecologica, al Green Deal, che non c'entra nulla, perché il Green Deal non è stato applicato, non ha avuto alcuna conseguenza sull'agricoltura, perché oggi è ancora un pezzo di carta. Invece la crisi dell'agricoltura viene da molto lontano. Do dei dati. Negli ultimi dieci anni in Italia si sono chiuse mezzo milione di aziende agricole. L'imposizione fiscale è aumentata. L'ultimo provvedimento è quello del governo Meloni, che non ha rinnovato l'esenzione della tassazione dell'IRPEF sui redditi dominicali agrari. Oppure il ruolo della grande distribuzione, che ha messo in ginocchio i piccoli agricoltori. La grande distribuzione ha preso prodotti alimentari a basso costo dall'estero, imponendo i prezzi sul mercato italiano. Per cui ci troviamo agricoltori che producono a prezzo di costo e quindi non possono vendere o devono distruggere le proprie culture perché non sono in grado di vendere e fare un margine utile. Oppure che ne pensiamo del ministro dell'agricoltura Zaia, che quando era ministro ha detto sì al CETA, all'accordo di libero scambio con il Canada, e siamo stati invasi dal grano canadese al glifosato. Sono molte le questioni, però andare alla colpa della transizione ecologica, quando la siccità ha provocato danni per 6 miliardi di euro all'agricoltura, è veramente inaccettabile. I veri problemi sono quelli che pongono i agricoltori, ovvero il tema della fiscalità, il tema ovviamente di non essere schiacciati dalla grande distribuzione dei prodotti che rivengono dall'estero. Ritiene che oltre a una trattativa europea il ministro Lollobrigida dovrebbe convocare immediatamente un tavolo per cercare di trovare un punto di intesa, sia anche sul tema per esempio del gasolio o comunque dell'IRPEF agricola per fare un po' una valutazione per andare incontro anche alle richieste degli agricoltori. Quella è stata una scelta fatta poche settimane fa con la finanziaria, che hanno eliminato l'esenzione dalla tassazione IRPEF del reddito dominicale agrario, quindi dovrebbero fare un passo indietro rispetto a una decisione che hanno preso poche settimane fa. Vale 250 milioni di euro quella misura e poi ce ne sono tante altre. Oggi la grande questione è come noi tuteliamo la piccola agricoltura. Quello che si vede dai dati statistici è che oggi i piccoli agricoltori stanno scomparendo a favore delle grandi aziende agricole che stanno accorpando tutto. Ecco, questo è un problema che si ripercuote anche sulla qualità dei nostri prodotti, ma più che sulla qualità anche sul mantenimento di quella tipicità dei prodotti che proprio la memoria storica di tantissime piccole aziende agricole diffuse nel territorio avevano garantito in questi anni. Senta, si può fare oggi poi tra l'altro si sono incrociate questa grande manifestazione con la scelta dei 27 di dare giustamente degli aiuti all'Ucraina militari. Allora, io quello che le chiedo è se questa scelta è in contraddizione con le proteste degli agricoltori e soprattutto ritiene che la PAC cambierà ulteriormente con l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Allora, intanto diciamo una cosa, che la guerra in Ucraina insieme alla crisi climatica sono stati i due elementi, i due fattori che hanno scatenato un'ulteriore accelerazione della crisi agricola in Europa e anche in Italia. Da un lato per il tema dello shock energetico, l'aumento dei prezzi energetici che conseguentemente si sono rigenerati nei sistemi di produzione, penso al gasolio e tante altre, ma anche ovviamente l'esulamento dei prodotti agricoli che poi hanno determinato un problema serio da moltissime dei prezzi. Dall'altra parte la crisi climatica, la siccità ha diminuito ad esempio la produzione in Puglia del 30% dell'olio e quindi con un conseguentemente aumento del costo dell'olio stesso e o le nocciole. Nell'area della Tuscia c'è stata una diminuzione forte a causa della siccità. La siccità ha provocato danni ingenti, 6 miliardi di euro, è la col diretti che da questo dato, non noi. E questo è un problema. L'altra questione è l'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. Certo, sappiamo che l'Unione Europea ha una PAC che dal nostro punto di vista andrebbe totalmente riformata, ma chi l'ha approvata? Sono anche i partiti che oggi stanno al governo, cioè i Fratelli d'Italia, la riforma ha dato il suo sì, ha dato il suo assenso e sarebbe il caso invece di cambiare la riforma per costruirla più a dimensione delle caratteristiche territoriali. Cioè la pianura tedesca ha delle caratteristiche agricole differenti dai nostri territori, quindi vanno considerati questi aspetti che non sono presenti nella PAC. Certamente va rivisto anche il tema delle quote. Ritiene che ci sia una preferenza da parte del governo nei confronti di Col diretti o ritiene che l'esecutivo ascolti tutte le parti? Mi pare che Col diretti sia diventato un po' il capo di gabinetto del ministro Lovrigida. Sicuro. Ma sì, ma al di là di questo il punto è che oggi questa protesta è anche una protesta che mette in discussione, mette anche in discussione il ruolo delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali agricole. L'ultima cosa, con un motto, allora meglio burro o cannoni, come si diceva una volta? Perfisco burro e cioccolata. Grazie Angelo Bonelli.